Per me l'arte è quando sono felice o quando mi viene in mente un disegno immaginario. Per me l'arte è espressione. È sentirmi libera a fare quello che voglio senza nessuno che rompa il scatole. Per me l'arte è emozione e ristoro dell'anima. Per me l'arte è l'elaborazione soggettiva del mondo. Per me l'arte vi mette in comunicazione con gli artisti e la storia passata, ma anche con il presente. Per me l'arte è bellezza e quello che mi piace di più sono i colori. Per me l'arte è importante perché ti permette di esprimere le tue idee come vuoi. L'arte per me è verità e menzogna. Per me l'arte è il piacere di ammirare la bellezza e il genio degli artisti. Per me l'arte è un modo di esprimersi. L'arte è creatività! Per me l'arte è un modo di esprimersi. Per me l'arte è la mia! Per me l'arte è creatività! Per me l'arte è un modo di esprimere! Grazie a tutti.